Ciao, buongiorno. Oggi vorremmo andare alla scoperta di un territorio molto particolare, le campagne vicino a Spoleto in direzione Campello sul Pliturno, in particolare le campagne di Camporoppolo, dove la nostra collaboratrice, la fotografa Spoletina Emanuela Duranti, vive e praticamente ha voluto dedicare un servizio fotografico a questo territorio nell'ultimo numero di Spoletos, come vedete. Ha voluto fissare attraverso l'obiettivo quelle che sono le suggestioni di una terra e che noi abbiamo voluto intitolare Impressioni di Ottobre. È l'alba di un mattino di inizio autunno, la luce pallida di questo nuovo giorno comincia a illuminare la campagna intorno a me, silenzio, su tutto il velo impalpabile della nebbia. Così Emanuela inizia la sua descrizione di questo territorio che è particolarmente ricco di offerte immobiliari di pregio, in particolar modo rustici disseminati nelle campagne e anche nei volghi come Santa Maria di Campis, Camporoppolo, San Paolo, Beroide e altre zone che si affacciano appunto sulla valle Spoletina. Vorremmo andare alla ricerca di queste chicche del territorio mettendo in evidenza quelle che sono le loro caratteristiche più peculiari e fare una sorta di storytelling di queste case che per noi hanno un'anima.